Il libro di Fiabe Eravamo bambine. Questa fiaba che stai sognando è l'ultima. Leggila meglio perché non c'è scritto cantando. Sono a memoria questa fiaba perché la mamma ce l'ha letta così tante volte prima che andassimo a dormire. E poi, dopo che è scomparsa, te l'ho letta io ogni sera. Per di più, l'ho sognata un centinaio di volte e va sempre a finire allo stesso modo. Non finisce bene per noi. Mai. Ma ora vorrei provare a cambiare il finale del mio sogno. Vorrei tanto poterlo controllare. Non è solo un tuo sogno. Questa è una fiaba. E finisce solo in un modo. La mamma ce l'ha sempre raccontata così. Non puoi arrivare tu e cambiarla. Mi hai sempre accusata di volermi sostituire alla mamma. Questa volta vorrei essere me stessa e sognare un finale diverso per noi. Ululano, non cantano. Ma ululano là fuori e tu devi proteggermi nel tuo sogno come nella vita reale. Questo scantinato buio non esiste in casa nostra. Eppure mi è così familiare. Sì, so che qui da qualche parte c'è una porticina che ci porta in un altro posto. Tasta anche tu le mura di questo scantinato. So che sono fredde, sono di pietra, ma da qualche parte so, so per certo che ci sia una porticina. Dove? Non lo so. Non ci sono mai stata, ma quella porticina ci potrà portare fuori di qui. Sarà una risoluzione. Non c'è scritto nel libro. No, c'è scritto solo che dobbiamo scappare! Quella porticina non vi porterà da nessuna parte, perché la verità è che siete incastrate negli scantinati della vostra mente. Siete obbligate a sentire me e i miei amici festeggiare l'odore della carne. L'unica via d'uscita è il risveglio.